Caso Bari, Petescia, motivazioni chiarissime. Per frattura si apre, oltre a quella giudiziaria, una questione politica e morale. Il governatore indagato per calunnia, partiti, movimenti e coalizioni non possono più tacere. L'Italia dei valori boccia frattura. Stiamo con l'Ulivo 2.0. Lo ha ufficializzato il segretario nazionale Ignazio Messina nel suo tour in Molise. Sulla sentenza di Bari ha detto che frattura farebbe bene a pensare a un passo indietro. Legge elettorale da Isernia Noa, collegio unico. Tutti contro la proposta del governatore, dal PD ai 5 Stelle, a creare futuro. Per Capone non c'è alcuna garanzia della rappresentanza della provincia in consiglio regionale. Sulle piste della Coca, una dozzina di perquisizioni. A Campobasso la squadra mobile sulle tracce di professionisti e piccoli commercianti. Da Sansevero al capoluogo il giro del Foggiano e del Vigilante. Cambio in panchina, Di Meo torna ad Agnone. Esonero consensuale tra i Granata e Bucci, la squadra di nuovo affidata al tecnico della salvezza di due stagioni fa. Buon pomeriggio, benvenuti all'edizione delle 14 del nostro telegiornale. Conferenza stampa del direttore di Telemolise Emanuela Petescia e dei tre avvocati Arturo Messere, Erminio Roberto e Paolo Lanese per illustrare le motivazioni della sentenza di assoluzione con formula piena emessa dal giudice di Bari Antonio Diella. Sentiamo Giovanni Minicozzi. Una vicenda giudiziaria è durata circa tre anni dalla data della denuncia presentata a Bari dal presidente della regione Paolo Frattura e sostenuta dal suo avvocato amico Salvatore Di Bardo, ma in soli sei mesi il PM Pasquale Drago aveva già deciso sulla colpevolezza degli imputati Fabio Papa e Emanuela Petescia chiedendone il rinvio a giudizio. Sono stati tre anni di lavoro folle e disperato durante i quali sono stata letteralmente annegate nelle carte tutte le notti per cercare di ricostruire la verità su fatti e circostanze denunciate dai due accusatori, ha detto la direttrice di Telemolise Emanuela Petescia, visibilmente soddisfatta nel corso della sua conferenza stampa durante la quale ha illustrato meticolosamente le motivazioni della sentenza racchiuse in 157 pagine dal giudice Antonio Di Ella. È stato un vero e proprio gioco al massacro condito da accuse infondate ed impamanti, ha aggiunto Petescia, distrutte ed annientate però dal giudice Di Ella, il quale ha emesso una sentenza chiara e inconfutabile di assoluzione dai reati con formula piena perché i fatti non sussistono. La consulenza tecnica non è che non fornisce la prova, fornisce come scrive Di Ella la prova contraria, scrive Di Ella. Un ulteriore e particolarmente importante elemento di contrasto e quindi questa volta non solo di non conferma, riviene dall'esito della consulenza sui tabulati e sulle celle telefoniche disposta dal PM su richiesta degli imputati. In tutte quelle sere, almeno uno dei quattro era in un'altra città? La vicenda giudiziaria di Bari, secondo quanto riportato dalle motivazioni della sentenza, si intreccia con la storia, per molti aspetti ancora oscura, della Biocom, frettolosamente archiviata dalla Procura di Campobasso dopo il trasferimento di Fabio Papa. Loro sostengono che io avrei detto, ed è un errore, come adesso vi leggo Di Ella, insanabile, che esisteva una proposta di archiviazione della Biocom fatta dalla squadra mobile a Papa e che di fronte a questa richiesta, a questa proposta di archiviazione, il magistrato avrebbe potuto archiviare veramente oppure dare un impulso a questa indagine a seconda di come loro si fossero comportati. Ok, queste sono le notizie e gli errori della stampa, della stampa dell'epoca e qualche volta li continuo a leggere anche oggi. Non fu Papa a delegare le indagini, ma d'alterio. E allora Steve Di Ella, scusate, ma Papa e Petescia, perché mai avrebbero riferito particolari non rispondenti al vero? Sul caso Bari va sottolineato come la pregevole difesa degli avvocati Arturo Messere, Reminio Roberto e Paolo Lanese, nonché il lavoraccio svolto dalla stessa Manuela Petescia e riconosciuto dal giudice Di Ella nelle motivazioni della sentenza, abbiano consentito di accertare la verità su una scabrosa vicenda e hanno perfino fatto commuovere visibilmente la direttrice di Telemorise. Questa parte che scrive Di Ella, nero su bianco, nelle motivazioni, vi fa capire quanto mi sia costata umanamente, quanto mi sia costato umanamente questo calvario giudiziario. Devo dare atto alla Petescia, scrive Di Ella, a pagina 99, di avere, sin dalla memoria, di aver cercato di ricostruire, a distanza di molti e molti mesi dal fatto, non solo i suoi impegni, spostamenti, ma anche quelli di frattura e con evidente difficoltà di dipardo. è un tentativo, scrive Di Ella, che ha assunto un grande valore, ove si pensi che non risulta in atti esservi stato alcun analogo impegno né da parte di frattura, né da parte di dipardo, né da parte degli inquirenti. Infine, Manuela Petescia ha comunicato che Paolo Frattura e Salvatore Di Pardo sono iscritti nel registro degli indagati per calunnia. Spetta al titolare dell'azione penale effettuare le valutazioni che riterrà fondate, sentite bene, alla luce di quanto argomentato nella presente sentenza già contenente di per sé materiale di interesse per il PM. Ho concluso e infatti frattura e dipardo sono stati iscritti d'ufficio nel registro degli indagati il giorno stesso della sentenza di assoluzione piena. Le motivazioni della sentenza di assoluzione relativa al caso Bari aprono oltre a quello giudiziario anche uno scenario politico. partiti, movimenti, coalizioni si trovano davanti a una questione morale che non può essere più elusa. Dopo l'indagine a suo carico per calunnia Frattura può restare ancora alla guida della regione molise. Sentiamo Pasquale Di Bello. La stagione politica incarnata da Paolo Di Laura Frattura è giunta ormai al suo capolinea. La pubblicazione delle motivazioni relative al caso Bari concluso con la piena assoluzione del magistrato Fabio Papa e della giornalista Manuela Petescia dalle infamanti accuse mosse nei loro confronti dal presidente della regione mette una pietra tombale su quella che oggi ha ragione può essere definita l'avventura politica più torbida e buia che abbia attraversato le istituzioni molisane. Il giudice del Tribunale di Bari Antonio Diella nelle sue 157 pagine ha demolito l'intera e fantasiosa ricostruzione proposta da Paolo Di Laura Frattura e confermata dal suo avvocato testimone Salvatore Di Pardo dimostrandone per tabulas la inattendibilità la inverosimiglianza e la contraddittorietà in poche parole entrambi sono risultati non credibili tanto è vero che risultano indagati dalla procura di Bari per calunnia. Tutta la vicenda innegabilmente oltre ad aprire uno scenario giudiziario inquietante apre sul fronte politico una gigantesca e comprovata questione morale che investe il massimo organo istituzionale della Regione la credibilità di frattura fatta letteralmente a pezzi dalla sentenza di Bari le infamanti accuse lanciate a due innocenti l'aver trascinato la Regione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri in una avventura processuale raccapricciante e la stessa iscrizione del Governatore nel registro degli indagati con l'ipotesi di calunnia pongono il Governatore in aperto contrasto con la Costituzione laddove all'articolo 54 la Carta fondamentale della Repubblica sancisce che i cittadini a cui vengono affidate funzioni pubbliche le adempiano con disciplina e onore entrambi i requisiti quello della disciplina e dell'onore sono stati ampiamente ridotti a brandelli da un Presidente di Regione che ha utilizzato il proprio ruolo e la propria funzione per far associare alle patrie galere due innocenti dichiarati come tali da un giudice terzo davanti a tale e gigantesca questione morale che dovrebbe portare alle immediate dimissioni di frattura è da capire quanti in Consiglio regionale a loro volta intendano adempiere con disciplina e onore alla propria funzione dopo la pubblicazione delle motivazioni ci si aspetta che gli inquilini di Palazzo da Immo assumano le necessarie iniziative per rimuovere frattura dal proprio ruolo e compito specie delle opposizioni proporre tempestivamente una mozione di sfiducia che permetta ai molisani di conoscere il pensiero dei consiglieri regionali sulla vicenda e soprattutto in vista della prossima campagna elettorale i nomi e i cognomi di coloro che sono disposti ancora a difendere l'indifendibile e a coprire con una gigantesca cataratta di omertà un fatto dalla inaudita gravità un'analoga denuncia di gravità a testimonianza che il Molise dispone di anticorpi sociali tali da reagire alla oscura deriva nella quale è finito la si attende da partiti movimenti sindacati intellettuali mondo dell'istruzione e confessionale tutti purtroppo chiusi in un silenzio imbarazzante l'Italia dei valori incontra aderenti e simpatizzanti sul territorio e si prepara per i prossimi confronti elettorali e in particolare per le regionali in Molise dove oggi è arrivato il segretario nazionale del partito Ignazio Messina all'incontro a Campobasso oltre al nuovo coordinatore regionale Angelo Di Stefano anche i promotori dell'Ulivo 2.0 e infatti l'Italia dei valori sostiene l'Ulivo 2.0 sentiamo l'Italia dei valori si prepara ai prossimi appuntamenti elettorali il segretario nazionale del partito Ignazio Messina oggi è arrivato in Molise per incontrare aderenti e simpatizzanti sul territorio le adizioni finora raccolte rafforzano la convinzione di poter ottenere un ottimo risultato alle regionali ha detto a Campobasso la presenza oltre che degli esponenti del partito a livello locale anche dei fondatori dell'Ulivo 2.0 l'Italia dei valori che a livello nazionale appoggia a Renzi presenterà alle regionali invece una lista collegata proprio all'Ulivo 2.0 in alternativa ai Renziani Frattura e Fanelli e sul governo Frattura il giudizio espresso da Messina è molto negativo ci ha deluso diciamolo francamente tra i valori allora lo appoggiò ci ha deluso perché abbiamo visto cinque anni di non governo o di governo del tira a campare io credo che al contrario una regione come il Molise avesse bisogno di un governo innovativo di chi voleva rilanciare pensare al futuro pensare alle infrastrutture ai nostri giovani al turismo alla sanità che funziona cosa che non è avvenuta siamo rimasti delusi diciamo francamente ed è per questo che vogliamo andare oltre Messina ha commentato anche le ultime scelte di Antonio Di Pietro che fondò l'Italia dei Valori io non disconosco quello che abbiamo fatto insieme tenete presente che io aderito all'Italia dei Valori nel 1998 siamo nel 2018 io sono sempre qui c'è qualcuno che ha deciso di allontanarsi buon per lui detto questo pensare di allearsi con chi ti ha lasciato fuori dal Parlamento francamente mi sembra una cosa non buona sentire oggi che Antonio Di Pietro vuole portare la bandiera di Bersani francamente mi lascia molto perplesso ma lo lascia ai medici il compito di verificare la situazione Messina ha lodato il lavoro sul territorio di Ivan Perriera e Aldo Di Giacomo e ha presentato il nuovo coordinatore regionale dell'Italia dei Valori il medico Angelo Di Stefano anche per ribadire l'importanza per il partito di un tema centrale in Molise come la sanità a livello nazionale loro hanno sposato l'alleanza con Renzi nella regione Molise diamo veramente un segno negativo su quelle che sono stati gli anni di gestione di Frattura duro l'affondo poi di Ignazio Messina commentando le vicende giudiziarie che coinvolgono il governatore Frattura e in particolare la sentenza di Bari una risalta agli occhi perché è arrivata una sentenza e allora devo dire francamente che di una gravità straordinaria parla l'esito delle sentenze se tu denunzi qualcuno e dall'altra parte qualcuno viene assolto perché non ha commesso il fatto probabilmente devi prendere atto che la tua azione politico-istituzionale non può andare avanti io credo quindi che Di Stefano Frattura faccia prima di tutto con se stesso un esame di coscienza se continua a pensare e amministrare in questo modo forse sarebbe meglio rimanere a casa La CISL con il segretario regionale Giovanni Notaro ha sottolineato come l'Istat abbia segnalato una salita dell'occupazione nel 2017 in Italia mentre in Molise si rileva ancora un ritardo rispetto al periodo precedente la crisi si sono recuperati 5.000 posti di lavoro ha detto ma ne mancano ancora 7.000 si potrà avere un forte sostegno dalle misure per l'area di crisi complessa serve un piano di medio-lungo periodo però darsi tempi certi la CISL ha concluso Notaro vuole che il tavolo di confronto con regioni istituzioni e parti sociali sia riattivato per valutare provvedimenti e interventi certi e con una programmazione condivisa dipendenti della GAM ancora una volta in presidio davanti al Consiglio regionale oggi chiedono garanzie per la proroga della Cassa Integrazione e l'attivazione delle politiche di ricollocazione occupazionale a Palazzo Daimmo anche i pensionati che sollecitano il varo della legge sulla non autosufficienza sentiamo la Cassa Integrazione scade a inizio novembre i dipendenti della GAM insieme ai sindacati tornano perciò davanti al Consiglio regionale vertenza risolta di fatto poco meno di un anno fa con l'aggiudicazione dei beni della ex arena compresi nel primo lotto al gruppo Amadori poi le trattative e gli accordi al Ministero dello Sviluppo firmati a febbraio ma il cammino verso il rilancio tanto auspicato e dichiarato in quegli accordi è ancora lungo così la richiesta immediata è ancora una volta quella degli ammortizzatori chiediamo alla politica di fare questo esame congiunto perché questo è diciamo la base principale per farci approvare per un altro anno la cassa integrazione tenendo conto che l'Inps tarda con i pagamenti quindi prima si fa e prima venrà messa a pagamento per i dipendenti dell'azienda di Boiano come per tutti gli altri dell'area di crisi sono previste poi anche politiche di ricollocazione alternative al rientro in azienda devono uscire dei bandi di pubblica utilità e un altro bando è uscito per farci fare dei corsi di formazione e lavoro questi corsi il corso di formazione e lavoro include da 18 a 65 anni ma se io devo fare il bando che è un corso di formazione che è finalizzato a un'occupazione io lo vado pure a fare ma se io devo andare a fare un corso di formazione finalizzato a che cosa che dopo 5 mesi dopo 500 ore di lavoro di corso mi rimane un attestato a me mi serve il lavoro non il corso con l'assessore allo sviluppo Carlo Veneziale un lungo confronto prima dei lavori dell'aula i temi sono quelli che i rappresentanti dei lavoratori hanno chiesto di illustrare ai capigruppo chiediamo l'avvio del tavolo l'avvio della procedura di richiesta di cassa integrazione i lavoratori già provengono da una situazione disagiata da anni di cassa integrazione e vorremmo fare anche in modo che ci sia una certa continuità per non penalizzare ulteriormente questi lavoratori che oramai sono ridotti ai minimi termini e con il presidente del consiglio Cotugno e la presidente della quarta commissione Lattanzi hanno avuto un confronto anche i sindacati dei pensionati sulla proposta di legge ed iniziativa popolare per la quale hanno raccolto loro tempo fa le firme sulla non autosufficienza ci hanno rassicurato che oggi porteranno in discussione la legge sulla non autosufficienza da noi richiesta nel 2014 e tenteranno comunque di far sì permettere un fondo regionale sulla legge di non autosufficienza o così oppure tramite la finanziaria questo è quanto promesso da lei che discuteranno oggi in consiglio poi vedremo i risultati più in là elezioni regionali no compatto della provincia di Serni al collegio unico e alla proposta di legge targata frattura i primi ad opporsi sono stati quelli di creare futuro poi sono arrivati 5 stelle e domani addirittura il PD Sernino si schiererà ufficialmente contro la proposta che prevede il collegio unico regionale non c'è alcuna garanzia di rappresentatività per la provincia di Serni ha detto Franco Capone del collegio dei garanti del PD che ha convocato un'assemblea straordinaria di tutti i partiti appunto per domani alla sala gialla della provincia ci dice tutto Enzo Di Gaetano quella legge non la vogliamo si parla della proposta frattura per la nuova legge elettorale regionale già illustrata a Sernia nel corso dell'incontro con i sindaci della provincia Pentra sindaci che dissero chiaro e tondo al presidente di pretendere nero su bianco tutte le garanzie necessarie per la rappresentatività del territorio isernino con un minimo garantito di almeno 6-7 consiglieri regionali ebbene nonostante tutte le pressioni e le istanze frattura come è solito fare è andato avanti per la sua strada ieri con un colpo di mano avrebbe addirittura ottenuto le 11 firme necessarie sotto la sua proposta per il collegio unico regionale sarebbero le firme di 11 consiglieri regionali compreso frattura che si sarebbero già impegnati per martedì prossimo 24 ottobre a votare la nuova legge elettorale legge che prevede un collegio unico regionale e che non offre alcuna garanzia di rappresentatività minima alla provincia di Isernia un colpo di mano quello che tenterebbe frattura al prossimo consiglio regionale ma un colpo di mano studiato che non farebbe altro che perpetrare la politica di spoliazione e impoverimento del territorio pentro che questo presidente porta avanti da cinque anni da sottolineare che dieci delle firme apposte alla proposta di legge frattura sono di consiglieri regionali della provincia di Campobasso l'undicesima firma sarebbe addirittura quella di Vincenzo Cotugno rappresentante della provincia o sarebbe meglio dire dell'ex provincia di Isernia non hanno firmato né Michele Orio né Massimiliano Scarabè né Vincenzo Niro insieme agli altri rappresentanti della minoranza consigliare trasversale che comprende ex PD come Totaro e Petraroia 5 Stelle e Centrodestra se il disegno di frattura andrà in porto il 24 ottobre 2017 sarà ricordato come il giorno della vergogna il giorno della scomparsa politica della provincia di Isernia e dell'Alto Molise ma non tutto il PD sembra allineato a frattura infatti la notizia rischia seriamente di destabilizzare se non spaccare il partito in Molise e per domani pomeriggio alle 17 alla Sala Gialla della provincia il Comitato dei Garanti della Federazione Isernina del Partito Democratico ha convocato un'assemblea generale dei partiti e delle associazioni della provincia di Isernia lo scopo è quello di lanciare un ultimatum a frattura non far passare la proposta del collegio unico regionale altrimenti sarà battaglia dura non solo tra centro-destra e centro-sinistra ma all'interno dello stesso PD Molisano lo ha dichiarato Franco Capone esponente di spicco del Partito Democratico Isernino membro del Comitato dei Garanti che ha detto frattura dovrà fermarsi per forza di fronte alla mobilitazione di un'intera provincia vedremo intanto l'appuntamento è per domani pomeriggio alle 17 alla Sala Gialla della provincia di Isernia il Tarmolisi ha stabilito che le società che hanno fatto ricorso contro l'aggiudicazione dell'appalto per realizzare la tangenziale nord di Campobasso non avevano i requisiti per avere i lavori Sindaco Battista ha espresso soddisfazione per la decisione dei giudici amministrativi è evidenziato che la procedura condotta dal Comune era esatta e legittima adesso ha detto Antonio Battista si potrà andare avanti con l'iter che porterà a costruire l'opera per migliorare e completare la strada che collega Ponte San Pietro alla zona industriale del capoluogo torniamo adesso torniamo adesso a parlare di cronaca con l'operazione antidroga condotta dalla squadra mobile di Campobasso una decina di appartamenti sono stati perquisiti in città per ricostruire la rete dello spaccio di cocaina una rete però fatta di professionisti e piccoli commercianti sentiamo Giovanni Di Tota Un giro di persone fidate non i classici pesci piccoli della rete dello spaccio locale ma per lo più consumatori che a loro volta piazzavano la coca ad amici e conoscenti a 5 grammi alla volta dosi per una serata di droga e sesso professionisti e piccoli commercianti di Campobasso e dintorni che avevano come punto di riferimento il foggiano e il metronotte a tirare le fila e soprattutto a portare la coca in città secondo gli investigatori Giuseppe Bruno uno del mestiere lo ha dipinto il dirigente della squadra mobile Raffaele Iasi durante la conferenza stampa in questura con gli agganci giusti a San Severo è nella città alle porte di Foggia che scorre il fiume di droga destinato alla provincia d'Auna ma anche al litorale e a Campobasso comprata a 30 euro al grammo e rivenduta al doppio quando è di media qualità ma che pura schizza 50 euro all'ingrosso per poi essere piazzata a 100 euro al grammo in questo caso peraltro la cocaina può subire tagli e quindi il ricavo sul mercato del piccolo spaccio aumenta fino al 130% e le banconote sistemate in bustine di cellofan per un totale di poco inferiore ai 40.000 euro trovate in casa del Pugliese a poche centinaia di metri dallo stadio di Selvapiana rivelano la consistenza del giro che l'uomo aveva messo in piedi soldi sicuri come il canale dei clienti a cui vendere senza il quale è difficile mettere in piedi una rete del genere e per collaboratore Bruno si era scelto un incensurato un'ex guardia giurata che aveva lavorato per un'azienda di termoli poi fallita i due nella zona di Oratino abitavano a poche centinaia di metri di distanza per parlare tra di loro usavano le ricetrasmittenti ma l'insolito traffico ha insospettito qualche vicino che ha segnalato i movimenti alla questura gli agenti della mobile negli ultimi giorni hanno perquisito una dozzina di appartamenti a Campobasso e dintorni messi sulla pista giusta dalle intercettazioni telefoniche poi la conferma nel registro trovato in casa di Giuseppe Bruno che annotava quantità di cocaina venduta e soldi incassati il blitz in casa sua è stato fulmineo il foggiano ha tentato di disfarsi della droga gettandola nel water recuperata in parte nella fossa biologica sembrava un fornaio alle prese con la farina hanno raccontato quelli della mobile invece era cocaina due giovani di petacciato di 21 e 24 anni sono rimasti coinvolti in un incidente avvenuto lungo la provinciale 51 per Termoli per estrarli dalle lamiere accartocciate dell'auto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco ecco vedete la foto della macchina incidentata sono stati trasportati all'ospedale Santimotio di Termoli ma dai primi accertamenti le loro condizioni per fortuna non sono gravi Acquaviva con le croce Monte Mitro e San Felice sono tre i comuni del Basso Molise di minoranza linguistica croata per promuovere le iniziative delle associazioni e valorizzare la cultura e le tradizioni del territorio è stata organizzata la seconda edizione di Molizzaico presente all'evento anche l'ambasciatore della Croazia in Italia sentiamo Fabrizio Occhionero due giorni di iniziative per promuovere tutelare l'identità croata sul territorio e valorizzare il patrimonio di disorse dei tre comuni di minoranza linguistica Acquaviva con le croce Monte Mitro e San Felice del Molise riuscita la seconda edizione di Molizzaico evento organizzato dall'associazione Iedna Musica in collaborazione con Mosaico Italo Croato Roma e il patrocinio dei tre comuni e della regione la manifestazione è stata sostenuta dall'ambasciata della Repubblica di Croazia in Italia presente con il nuovo ambasciatore e dall'ufficio centrale del governo per i croati all'estero bella occasione veramente bella manifestazione culturale che è sostenuta anche con i finanzi del nostro dipartamento centrale responsabile per minoranze croate in tutto il mondo come questo anche qui in Italia noi crediamo che è molto importante preservare questa ricchezza anche per Croazia ma anche ricchezza per Molise è viva ancora la lingua croata qua in questi paesi noi come ufficio statale vogliamo ancora fortificarla anche con i progetti come questo di Molisaico in questo momento cultura musica enogastronomia tutela delle minoranze e della lingua parlata ancora nei tre paesi che si trasmette tra le generazioni e grazie a progetti di promozione per non perdere l'immenso patrimonio di conoscenze il senso di una lunga storia l'impegno sul territorio continua ogni volta veniamo qua con piacere non è prima volta collaboriamo tantissimo con Croati Molisani nei progetti sia quelli che sono successi nel passato sia nei futuri molto volentieri vogliamo fare anche in un certo senso la sponda tra Croazia e Croati Molisani anche conoscendo meglio la lingua la lingua standard croata cerchiamo di avvicinarli e aiutarli è un calendoscopio dove noi ci facciamo conoscere per chi siamo dove vogliamo andare forse sarebbe meglio dire chi eravamo chi siamo dove vogliamo andare queste nostre porte aperte sul futuro io lavoro moltissimo per i bambini perché ritengo che le nuove generazioni siano veramente il nostro futuro e come dico sempre è una passione che noi abbiamo nel cuore che però probabilmente è proprio dovuta alla nostra diciamo storia sono cinque secoli che viviamo lontani dalla madre patria abbiamo difficoltà ad esprimere appuntamento tutto al femminile per la terza giornata degli incontri internazionali di poesia in programma a campo basso alla ex gil fino a giovedì questa sera alle 18 e 30 la rassegna ospita la poetessa e scrittrice siriana maram al masri voce critica nei confronti del regime di bashar al assad i suoi libri sono stati tradotti in italiano inglese francese corso serbo croato maltese spagnolo l'ingresso all'evento è gratuito è tutto termina qui il nostro tg delle 14 dopo la sigla le previsioni meteo poi la linea come sempre ai colleghi dello sport noi ci rivediamo intorno alle 15 per il tg flash buon pomeriggio